Buongiorno a tutti, mi chiamo Manuel Lamberti e insieme al mio staff con la collaborazione di Lazio e Nuova abbiamo ideato un dispositivo che serve per la decorazione dell'aria. Questo dispositivo non fa altro che eliminare virus, batterie, muffe e allergioni che si trovano nell'ambiente e proprio per il periodo costorico in cui viviamo è molto importante. Il dispositivo è un apparecchio elettronico che è adatto comunque al filtraggio della pulizia dell'aria e potrebbe essere utilizzato in ambienti chiusi in quali hanno un grande flusso di pressione. In questa slide abbiamo messo alcuni dispositivi i quali compiono anch'essi questo filtraggio però abbiamo i dispositivi UV che hanno la caratteristica comunque di distruggere i batteri ma con poca efficacia, mentre quelli a filtraggio hanno la caratteristica di essere troppo costosi mentre il nostro progetto per quanto riguarda qualità-prezzo è migliore. Abbiamo pensato di vendere questo dispositivo su piattaforme online come Amazon e eBay attraverso una pubblicizzazione sui social media come ad esempio Instagram, Facebook, Twitter e abbiamo pensato che per la costruzione dei primi 50 dispositivi vi è necessario comunque un budget di 10.000 euro. Abbiamo fatto una roadmap nella quale abbiamo inserito che nell'aprile 2021 abbiamo convalidato il nostro business model canvas per poi, previsto che a settembre 2021 costruiremo il primo prototipo per poi investire sulla pubblicità e costruire i primi 50 dispositivi per fare ingresso nel mercato. Abbiamo pensato a uno slogan, ovvero Stanco di aria in pura, aiutarci a purificarla comprando il nostro dispositivo. Ringrazio il mio team, ovvero Matteo Sinopoli e Ludovica Gaggiulo come graphic designer e i risalei a fare un mio project designer e la Lazio Innova per averci sostenuto per questo progetto.